Resta sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Foggia-Caserta a causa della frana sui binari tra Ariano Irpino e Montecalbo. Rete Ferroviaria Italiana ha comunicato che le previsioni di ripristino dell'infrastruttura dovrebbero avvenire in 30 giorni, si stima, il 14 aprile. I sopralluoghi successivi alla frana, come si vide dalle immagini, hanno evidenziato gravi danni ad uno dei pozzi di areazione della galleria, nonché un dissesto localizzato dell'opera. Per la messa in sicurezza dell'infrastruttura saranno rimossi i detriti presenti sulla sede ferroviaria, verrà demolito e ricostruito il pozzo di areazione ripristinata alla parte strutturale dissestata della galleria. Saranno necessari inoltre dei monitoraggi geologici dell'aria interessata dal fenomeno franoso e indagini strutturali della galleria. Intanto da ieri niente bus sostitutivi da Ariano Irpino, le navette ora sono a copertura della tratta Benevento-Foggia, gli Intercity, Roma-Bari di oggi sono stati tutti cancellati e sostituiti con i bus. L'interruzione della circolazione su ferro sulla vecchia linea Benevento-Foggia crea disagi enormi, soprattutto in vista delle festività pasquali. E' questo infatti l'unico collegamento ferroviario lungo l'asse Tirreno-Adriatico. Grazie.